Considerando quindi la scarsa qualità con cui ho dato supporto a queste piante, queste sono cresciute molto come vedete, sono belle verdi, hanno mantenuto il loro colore, ho utilizzato un pochino di fertilizzante. A questo punto dopo 90 giorni questa pianta credo si meriti una bella potatura. Quindi ci vediamo la settimana prossima con il video in cui vi farò vedere come farò questa potatura. Quindi se avete qualsiasi tipo di domanda non esitate a commentare, vi rispondo appena possibile. Grazie per la visione e alla prossima! Grazie per la visione!